In barca vela sull'arno a pochi metri dal ponte vecchio e dagli uffizi, un'esperienza che non capita spesso e proprio per questo attira l'attenzione. E' questo lo scopo principale per far rinascere e ripartire la città che non è fatta solo di turismo ma anche di eventi legati a congressi e affari. Da fiorentino ho cercato di cacciare fuori un'idea nuova che ovviamente il Firenze Convention Bureau e tutti gli albergatori fiorentini hanno raccolto subitissimamente e quindi abbiamo creato questa bellissima idea di fare una regata in arno sotto il ponte vecchio. Sono quasi una metafora le barche che filano sull'acqua anche con poco vento in una splendida giornata di sole come solo i primi giorni di autunno sanno regalare. Sulla imbarcazione si è una squadra, ognuno ha il suo ruolo ben preciso che unito a quello degli altri contribuisce a raggiungere l'obiettivo al meglio. E' il primo evento live dopo il lockdown ed è un evento in cui hanno partecipato oltre 40 agenzie e organizzioni di eventi quindi è un evento molto importante che dà un segnale molto importante. E' la prima volta che si fa una regata a vela sull'arno vicino al ponte vecchio e quindi è un evento veramente unico e straordinario. Una partecipazione massima, si spera bene. Grazie